La Planet Andria ha vinto il ricorso presentato al TAR contro l'ordinanza di sgombero emanata il 26 febbraio scorso dal comune di Andria e resterà regolarmente gestore della piscina comunale di Via delle Querce ad Andria sino al 31 luglio prossimo. Il Tribunale ha sostanzialmente validato la tesi difensiva della ditta, revocando l'ordinanza dirigenziale perché illegittima. La Planet è la ditta che dal 2007 gestisce in modo continuativo la struttura sportiva andriese, al centro però sia di diverse proroghe che di numerosissime polemiche già negli scorsi mesi sino proprio all'ordinanza di sgombero ed alla pubblicazione di un nuovo bando di gara per la gestione. Al centro della contesa tra comune di Andria e ditta ci sono diversi canoni arretrati che tuttavia la Planet rispedisce al mittente a causa delle spese sostenute per l'adeguamento della struttura stessa. Nel frattempo, lo ricordiamo, dopo aver espletato tutte le procedure di gara c'è stata anche l'aggiudicazione definitiva per un nuovo concessionario della piscina comunale. Le procedure di aggiudicazione si sono concluse a fine marzo e da vincere la nuova concessione, della durata di 5 anni rinnovabili per altri due, è stata la società Sport Management S.P.A. di Verona con un canone di poco inferiore all'80 mila euro IVA compresa. La società con sede a Verona ha superato l'altra ditta ammessa alla gara per la concessione, cioè la Sistemi Integrati per lo Sport a responsabilità limitata. L'aggiudicazione a questo punto slitterà quasi certamente al mese di agosto, quando sarà terminata definitivamente la concessione del vecchio gestore. Grazie.